E' costretta ad affrontarlo. I fratelli del cerchio, attraverso Andreina a cura di Vubbi, domanda Come evolve l'anima? I fratelli del cerchio L'anima evolve secondo i disegni che si dispiegano man mano. Le ferite più gravi necessitano di più tempo per guarire. Ad un certo punto della sua evoluzione, dopo innumerevoli esperienze l'anima decide di affacciarsi finalmente a quell'antico dolore e per risolverlo è costretta ad affrontarlo. E' un atto di coraggio capire fino in fondo quella verità anche se la mente farà di tutto per ostacolare quel processo cercando ancora di difendervi da voi stessi. Per capire per quale motivo si aspetta tanto tempo per risolvere quell'antico dolore nonostante durante il dopomorte si abbia ben chiaro quale sia il nodo da risolvere bisogna considerare le innumerevoli varianti attraverso le quali deve passare un'anima che evolve. Il risultato che ci si propone non è così immediato. Può essere che ci siano altre priorità o può darsi che ciò che ci si propone non venga a compimento per tanti motivi. Quello più evidente è il dolore causato dalla convinzione di non meritarsi l'evento che si vive. Se dopo ogni incarnazione gli esseri che decidessero di risolvere una parte dei loro insoluti ci riuscissero l'anima non dovrebbe impiegare così tante vite per liberarsi. Evolvere significa essere duttili alla trasformazione che inevitabilmente ci coinvolge ci passa attraverso fluisce in noi e noi ci immergiamo in essa. Cambiamo forme e pensieri ma allo stesso tempo trasportiamo con noi l'anima adeguata ad ogni nuovo aspetto. Svolgete serenamente la vostra vita. I fratelli a voi vicini. Grazie a tutti.